Il ministro del turismo Massimo Garavaglia è in visita allo stand calabrese nel corso della Borsa Internazionale del Turismo alla BIT a Milano. Si è detto soddisfatto del percorso avviato dalla Calabria, un percorso che coincide con la promozione di un turismo sicuramente ecosostenibile. Sentiamo il ministro Garavaglia. La direzione del futuro è proprio la sostenibilità. Ma come parafrasando il poeta Valéry, il futuro non sarà più come prima. E uno dei temi chiave è proprio la sostenibilità. E come definiamo questa sostenibilità? La sostenibilità non deve essere un termine vuoto, deve essere un termine concreto. E noi abbiamo un patrimonio enorme, la Calabria è un patrimonio enorme. L'Italia è un museo a cielo aperto, è un patrimonio enorme. E quando è un patrimonio enorme devi fare tre cose. Uno, non consumare il patrimonio, possibilmente farlo crescere e sicuramente farlo rendere. Quindi abbiamo tanto lavoro da fare.